Gli amici di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi chiedono la messa alla prova. I loro legali hanno avanzato la richiesta per i due giovani di Castiglion-Fibocchi nell'udienza che si è tenuta a Genova. Questo uno degli strascichi del lungo iter giudiziario sulla morte di Martina Rossi, la giovane che morì precipitando da un hotel a Palma de Mallorca. I due aretini erano in vacanza lì assieme a Martina. Secondo il PM, nel momento in cui vennero sentiti per ricostruire la dinamica le circostanze della morte furono reticenti, tacerono oppure mentirono per cercare di aiutare gli amici. Adesso che il procedimento principale ha visto condannati in via definitiva Vanneschi e Albertoni per tentata violenza sessuale di gruppo, sono proprio i due amici che chiedono di poter partecipare ad un programma concordato di lavori socialmente utili per chiudere con il processo. Il giudice si esprimerà su questa richiesta nella prossima udienza che è stata fissata per il 7 di aprile. Grazie. Grazie.